Buongiorno, mi trovo qui in questa splendida cornice siciliana venendo da Novara, dal nord della pianura padana per parlare di un problema però che interessa tutti e tutto il mondo occidentale, cioè quello della cardiopatia ischemica cronica che affligge un affetto importante della popolazione e che è un po' sottovalutata, un po' sottocurata rispetto agli standard e altre patologie. Proprio per questo si sta rivalutando e si stanno facendo simposi, riunioni per cercare di mettere in evidenza questo tipo di patologia che altera moltissimo la qualità di vita, cioè i pazienti che continuano ad avere angina nonostante le cure, che continuano ad avere disturbi nonostante le cure purtroppo stanno male e vengono un po' ignorati perché non fanno parte della patologia acuta e nel tourbillon della nostra attività e della nostra sanità possono passare in secondo piano. Bene, abbiamo fatto un buon punto della situazione con il dottor Bolognese che moderava questo simposio, siamo riusciti a mettere in evidenza i punti chiave per poter fare una rivoluzione culturale, cioè far capire ciò che è bene fare e ciò che non è bene fare e come possiamo pescare sulla parte sommersa dell'Ivesberg e tutti questi pazienti per offrire a loro con le nuove possibilità di farmaci e di interventistica un futuro migliore e una miglior qualità di vita.